Questo è il Super Tigre X della serie X, trasformato diesel, che è la trasformazione che ho fatto io. Adesso è a posto, ci proviamo. Eticchetto. Eticchetto. Questa è la trasformazione. la bevuto tutto ma quello che non ho visto perché non l'ha mantenuto facciamo un po' di più 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 un po' di più